Ciao, io sono Elisa, lavoro in G Group da più di dieci anni. La mia giornata tipo inizia verificando i meeting del giorno e gli appuntamenti e segue poi con il controllo delle mail in arrivo e le scadenze. Il momento più piacevole della mia giornata è quando mi trovo ad affrontare una sfida che consiste generalmente nel trovare la soluzione migliore per le nostre aziende clienti ai nostri lavoratori. Le mie principali attività consistono nella gestione amministrativa dei nostri clienti che assumono i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e tempo indeterminato. Noi collaboriamo con tutte le aziende del territorio, principalmente aziende di piccola media impresa oppure anche grandi clienti che sono su tutto il territorio nazionale. Change Lives per me significa rendere efficaci tutte le attività che sono rivolte verso i nostri stakeholder, clienti, colleghi e lavoratori. Mi piace lavorare in G Group perché è un'azienda dinamica in continua evoluzione e perché mette al proprio centro le persone che lavorano per lei. La forza di G Group è nelle persone che ci lavorano. Diventa un life changer e entra in G Group.